È una cosa stupida! Sei sicuro che non finiremo tipo in grossi grassi guai per questo? Gli umani fanno sempre test sulle specie inferiore. Lasciamola semplicemente in un campo, così può vivere con gli animali. E perdere questi dati? Senti, ma tu li vuoi studiare o no, gli umani? No, io voglio pranzare con le mie amiche e andare al cinema con i ragazzi. Non ti riconosco neanche più. Una volta tenevi tanto alla scienza, ora sei diventato una caroglia. Gli esperimenti potrebbero spiegarci perché sono tutti cattivi con noi. Io voglio andare al centro commerciale! Cazzo, ti fererà tutto! Quale sarebbe questa missione? Comunque, ne parlano sempre e Corvo tutte le volte si incazza, ma nessuno vuole mai spiegarcela chiaramente. Quando Pupa si evolverà nella sua vera forma, distruggerà e ricostruirà questo mondo a immagine e somiglianza del nostro pianeta, utilizzando i dati del suo DNA. Cos'è così? È incredibile che non abbiamo passato nessun guaio, Corvo era furioso. Non avremmo dovuto rapire un minore. Sinceramente, non so cosa mi sia preso. D'ora in poi, rimpiccioliremo solo gli adulti. Chi se ne frega se scompare uno stronzo grande e grosso? Buonanotte, signor Bidello! Le ho confezionato un bel vestitino di carta. Se non le entra può fargli qualche strappetto.